In paese non si parla d'altro. Roseto Valfortore ha ingaggiato la sua crociata per la viabilità provinciale e considerata anche la risonanza mediatica, questa potrebbe essere la volta buona o almeno qui ci sperano. Si qualizzano con i vicini del Beneventano che solo sabato scorso sono scesi in piazza a protestare. Le strade della Valle del Fortore sono tutte dissestate, sia sul versante campano che in quello pugliese. La battaglia dei rosetani, capeggiata da una sindaca agguerrita, Lucila Parisi, si concentra soprattutto sulla strada provinciale 130 tra Roseto e Alberona, una delle principali vie d'accesso. Il manto è dissestato in più punti, la segnaletica orizzontale è pressoché assente e quando le condizioni di visibilità sono scarse, come nelle immagini che vedete, diventa un percorso al cardiopalma, specie nelle ore notturne, figurarsi in caso di pioggia o neve. In paese non si parla d'altro che di questa strada e delle strade qui intorno? Vi penalizzano? Moltissimo ci penalizzano perché la gente vuole venire a Roseto, però le strade, ci vuole una macchina alla volta per arrivare qua certe volte. Chi non sa scassa la macchina. È un problema da anni, io sono 27 anni che ho questa attività, molto dico è bello venire, siete accoglienti, però una volta a volta all'anno penalizza la strada, non vogliono venire. Poi qui arrivano anche tanti rosetane dall'estero? All'inizio di prima di luglio fino alla fine di agosto ci stanno una flusso di gente, però purtroppo sono 50 anni, siamo partiti con la stessa strada rotta, l'otto l'abbiamo lasciata, l'otto l'abbiamo trovata. Questa frana è qui da dieci anni per convenzione, nove per la precisione, dall'aprile del 2009 quando un violento e persistente temporale ha fatto venire giù il fango. Non è tanto rabbia ma delusione quella degli amministratori e dei cittadini perché in questi anni la provincia non ha provveduto nemmeno a installare dei semafori per regolare il senso unico alternato. Proprio su questa frana è stato convocato il Consiglio Comunale Monotematico del prossimo primo febbraio. I sindaci dei Monti Dauni e di tutto il fortore sono stati invitati alla manifestazione. Avete risolto qualcosa? Vi stanno ascoltando? Non credo perché se ci avessero ascoltati quantomeno si sarebbero mossi per mettere un po' di segnaletica verticale, orizzontale e almeno un segnale di pericolo sulla frana verso Castelfranco. Qualcosa sul ponte di confine Roseto Alberona che è davvero pericoloso, c'è un gradone enorme. Quindi non credo proprio. Ci hanno ascoltati semplicemente rilasciando delle interviste il presidente della provincia dicendo e dichiarando che il sindaco di Roseto si dovrebbe vergognare per aver fatto la provocazione dell'astenzione dal voto. Ho risposto che non credo che possa e debba vergognarmi considerato che io comunque devo tutelare i miei cittadini e la mia comunità. Mi dispiace dirlo perché stimavo e stimo meglio forse come persona dire che si dovrebbe vergognare lui che nonostante quest'appello e nonostante la mancata sicurezza sulle strade non si è mosso a dire a chi di dovere di venire a fare qualcosa per le strade, quantomeno tamponare in questo momento particolare. Resta delle sue convinzioni? Meglio astenersi dal voto a questo punto? E a che cosa serve votare? Sono anni che Roseto versa in queste condizioni. Non è da adesso che facciamo le proteste, sono da anni. Ho fatto il sindaco dal 2000 al 2010, ho protestato, qualcosina l'abbiamo vista ma queste strade non hanno bisogno di qualcosina e sempre sugli stessi tratti. Mai che si arriva a Roseto. Hanno fatto un intervento sulla Roseto Castelfranco anni or sono, con un appalto di circa un milione di euro, con la gara che ha vinto l'impresa non mi ricordo chi, con il 48% di ribasso, una strada del genere con 400-500 mila euro, non neanche fare i muletti di consolidamento. Quindi è arrivata l'ora di prendere atto che questo territorio ha bisogno di interventi strutturali grossi. Non possiamo più stare in queste condizioni ma per una tutela della salute pubblica, della salute del cittadino perché chiunque si ammali non si fa in tempo col 118 ad arrivare al primo punto di soccorso che è Foggia e che dista 54 chilometri da noi.